LinkedIn for business novità consigli e strategie per rendere profittevole la tua attività su LinkedIn a cura di Leonardo Bellini buongiorno a tutti chi vi parla è Leonardo Bellini e questa è la diciassettesima puntata del podcast LinkedIn for business oggi vorrei condividere con voi un tema sicuramente molto interessante credo un po per tutti c'è quello di sviluppare il nostro personal brand sapete che quando parliamo di personal branding su LinkedIn tipicamente parliamo di professional branding cioè come associare la nostra identità il nostro profilo a un tema a un argomento in maniera assolutamente forte duratura memorabile per i nostri potenziali clienti in questa puntata faccio riferimento a alcuni dei punti toccati da Gianluca lo stimolo una delle maggiori autorità nel campo del personal branding durante il suo ultimo intervento al corso di video marketing tenuto a Milano tenuto a Milano 29 e il 30 settembre scorso quindi Gianluca da una definizione personal branding dice cosa significa fare personal branding significa creare una forte associazione tra una competenza rilevante per un pubblico e la propria persona in modo tale da essere considerati la scelta numero uno in un preciso e specifico campo significa che se il mio obiettivo è diventare il la persona numero uno quando parliamo non so di search engine optimization o di content marketing dovremo lavorare in modo che il nostro pubblico quindi non tutti non tutti i membri LinkedIn ma le persone interessate le nostre buyer personas identifichino la mia persona quando si parla dell'argomento content marketing in questo caso quindi in ogni in ogni comitiva in ogni gruppo in ogni associazione in ogni forma di comunità c'è sempre la persona che la comunità stessa di considera l'esperto di l'esperto di cinema di tv di musica di calcio di sport in generale quindi sicuramente c'è già presente che ci piace o no questa forma di associazione più o meno inconscia implicita inconsapevole tra un tema un argomento una tipologia di contenuti e una persona o più persone quello che gialluca dice che comunque la nostra mente è selettiva la nostra memoria riesce a trattenere o a incasellare solo due tre nomi al massimo per quel tipo di argomento quindi il nostro obiettivo essere nella top list sicuramente tra i primi o se non il primo il secondo che la persona può associare appunto quando parliamo di un certo un certo argomento quindi la gente le persone non ricordano facilmente di cosa ti occupi devi essere tu bravo a ricordarlo in ogni occasione in ogni modalità attraverso contenuti attraverso la tua presenza le tue interazioni anche e soprattutto i canali social esiste quindi secondo sempre gialluca una sorta di piramide del riconoscimento sociale nel livello più basso di questa piramide abbiamo il professionista generico cioè quindi ti viene riconosciuta una competenza ma superficiale generica se un po associato a un tuttologo potremmo dire poi abbiamo lo specialista quindi la persona che a cui vengono riconosciute determinate specializzazioni e competenze ma ancora non sei un'autorità il terzo livello è l'autorità cioè la persona che viene considerata autorevole quando si parla di un certo argomento il quarto quarto gradino di questa piramide riconoscimento sociale è invece la celebrità quindi una persona che non è solo considerato una persona attendibile affidabile con le competenze su quell'argomento ma la sua autorevolezza sfocia nella celebrità quindi è diventato famoso fino arrivare al quinto punto in cui la persona diventa un punto di riferimento assoluto quindi è importante quando pensiamo per esempio all'uso dei contenuti anche dei video per affermare il proprio personal brand non trascurare l'aspetto dei contenuti anzi è decisivo perché altrimenti rischio è quello di essere riconosciuti come persone che creano dei video magari belli accattivanti eccetera ma a cui non è associata una specifica competenza una specifica quindi si rischia di essere catalogati come quelli che fanno dei video interessanti o producono i contenuti in generale interessanti magari anche audio come questo podcast ma senza una specificità in termini di campo e dominio cognitivo di contenuto uno dei temi importanti che Gianluca ha sottolineato nel suo intervento è quello di mettere a fuoco la nostra personal value proposition che lui chiama promessa al mercato quindi cos'è la nostra promessa al mercato è la modalità con cui in una breve frase spieghiamo cosa possiamo fare per chi in particolare e come lo possiamo fare cioè con quale approccio con quale metodologia con quale strumenti quindi le tre domande chiave sono chi aiuto ovvero chi sono in grado di aiutare aiuto imprese professionisti aiuto manager aiuto casalinghe aiuto disoccupati a fare che cosa cioè qual è il risultato che la mia promessa al mercato considera quindi aiuto a trovare un nuovo lavoro a sviluppare più soldi a trovare più facilmente clienti a identificare migliori talenti per la propria azienda a rivedere le proprie strategie di marketing quindi aiuto chi a fare cosa e poi come come lo faccio in che modo sono in grado di apportare questo aiuto con quale tecnica con quale strategia con quale approccio quindi la reputazione dice gialluca non è altro che quanto il nostro target ci ritiene in grado di mantenere la nostra promessa al mercato cioè quanto la nostra promessa al mercato risulta credibile agli occhi alle orecchie del nostro mercato target quindi la reputazione è un indice una misurazione di questa di quanto appunto siamo credibili da parte del nostro target nel riuscire a mantenere la nostra promessa al mercato quindi la gente ci compra si sceglie perché crede che noi siamo in grado di mantenere la promessa che abbiamo fatto che abbiamo comunicato che abbiamo condiviso per esempio nella qualifica del nostro profilo linkedin dove sempre più spesso si trovano le frasi del tipo aiuto aziende professionisti nel mio caso a generare lì qualificati attraverso un'attività di linkedin o di social selling quindi prima di tutto è importante chiarirti su qual è il tuo main focus qual è l'argomento dove credi di avere acquisito maggiore competenze maggiore esperienza in cosa ti reputi esperto quindi parti dalle tue passioni personali oltre che detto interessi e delle sue competenze cosa conosci meglio cosa ti appassiona di più di cosa sei il re quindi questo è il primo punto fondamentale secondo punto è che ruolo vuoi darti vuoi darti il ruolo di consulente di temporary manager di guida di coach di esperti di medico che curi i malanni i malesseri di una persona o di un brand il terzo punto è chi è il tuo target chi sono i tuoi clienti cioè a chi ti rivolgi manager a professionisti imprenditori a marketing manager a una categoria specifica non so studi professionali piuttosto che disoccupati o laureati quali sono i risultati il quarto punto sono risultati cioè a che quale tipo di risultati prometti prometti di far comunicare meglio il tuo il tuo target il tuo interlocutore ti prometti di accorciare il processo di vendita ti prometti di ottenere più clienti o di generare più qualificati di prometti di risparmiare dei soldi rispetto all'attuale investimento e costi per esempio di un call center e poi la metodologia utilizzi un metodo proprietario una tecnica che magari è brevettato o che ha importato dall'america in che modo quindi aiuti le persone a raggiungere i risultati attraverso un coaching one to one attraverso delle lezioni e attraverso degli infoprodotti digitali attraverso dei mastermind con quale tecnologia con quale strumenti con quale approccio con l'autoipnosi con dei corsi ad hoc quindi hai un modo originale per esercitare questo ruolo hai definito una tua metodologia una tua formula ecco questo è un altro punto importante il quinto punto per affermare quegli elementi chiave che poi dovrai declinare attraverso la tua promessa al mercato ultimo punto che appunto condivido rispetto a quanto detto da giallo calostimolo amministratore fondatore di send out un'agenzia specializzata in personal branding qui a milano è che anche se non ti piace essere autoreferenziale e eviti in tutti i modi di parlare di te stesso ricordati che deve almeno aver creato aver girato e condiviso un contenuto video per esempio in cui spieghi esattamente chi sai cosa fai per chi lo fai come lo fai quindi la tua promessa al mercato grazie per l'attenzione e seguimi su linkedinforbusiness.it oggi ti ho parlato di personal branding e di come creare una promessa al mercato che potrai inserire nella tua qualifica quindi 300 carattere esposizione per spiegare chi sei cosa puoi fare per gli altri a chi ti rivolgi e come lo puoi fare grazie per l'attenzione a presto